Al circolo dei lettori il 17 maggio è stato presentato il progetto editoriale Vivere Arate, libro e dvd, a cura dell'osservatorio sull'usura. Vivere Arate di Marco Bobbio è un libro che affronta storie sul dramma dell'indebitamento e dell'usura attraverso dati e storie di gente comune. Il libro è accompagnato da un documentario realizzato da Enrico Verra, pensato nel 2008 a seguito del crack della Lehman Brothers, che racconta nello specifico la lotta tra indebitati e recuperatori. L'incontro al circolo dei lettori è stato strutturato come momento didattico teatrale con la proiezione di brani video e interventi musicali durante il quale si è svolto un dibattito sui temi trattati dal libro e dal documentario.